Il primo gol è quello del Pisa all'ottavo minuto, c'è stata una mischia in area, poi la palla arriva a Gozzoli che tira un diagonale, qualcuno ha detto che c'è stata anche un'autoretica, Gasparini avrebbe toccato la palla, comunque il merito va a Gozzoli, poi Lascoli che pareggia con Caroti, ecco il tiro di Caroti ed è l'uno a uno, tutto da rifare però al quarantesimo il Pisa va in vantaggio con Riva. Ecco il gol di Riva ed è il 2 a uno e come dicevo una boccata di ossigeno vitale per il Pisa, linea a Roma.